bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video io sono nge47 e oggi siamo su murder server di minchia craft dove comunque sapete come si gioca bene siamo via se si non darci giù pesante uccidendo tutti e che ci porteranno subito perchè è spuntato stava provato a guardarlo provo voglio andare di su ok vieni qui ciao bello ora il gun oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes ok ok allora andiamo a fare ma cosa stai dicendo ma che cacchio dici non sono io vieni qui non sa che c'è lì sotto il passaggio mi se ne mancano ben pochi vieni qui boom avevano preso la pistola eh bule ok ok ops ops ai sii man si può andare a vincere si può andare a vincere ragazzi ma che GG Si va a vincere Perché lui pensava che dormendo non potessi prenderlo No Volevi caro Si va a vincere Prima partita Si va a comandare Vai subito al labirinto Eccoci qua nella seconda partita di oggi Siamo nel labirinto E siamo il gamer Perfetto Abbiamo questo Siamo armati i finidenti Non è vero perché ci succederanno subito Però bene E' importante E' che entriamo qua dentro Così Assassino Dai chiedete tutto E volevi Vole Guarda che faccia Guarda che faccia Non se l'aspettava Ok Eccoci qua in un'altra partita Ho tirato una ragazza assurda Assurda Sono cinese Comunque Siamo Innocenti Corri Non so Corri Dai Siamo Corri Spagna Tutti così Mi uccidono Vaffanculo No E' bravo Stai bravo Avete finito i miei esageri? Porca di parola Sto condio Sto condio non usa il teletrasportore Ma cazzo ma Non Mache Ma cazzo Non a tutto 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 no ma non era qui o cazzo sono sporati cosa ho fatto la porco ok ragazzi scusatemi allora siamo in meccanti come il soldi non siete a me ricordo dove oh qui non c'è un coltello è miranda scrivete scrivete è miranda bambina non guardate ci funziona lo sapevo sii ma grande ovviamente non ci sono solo grazie a me grazie a me non è vero basta ok ragazzi siamo di nuovo assassini ti ucciderà ti ucciderà basta sti cazzo di messaggi sciollo via 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 scappiamo non ci tengo non c'è non c'è non c'è ti 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 no oh mio dio mi chiamavano Tarzan beh eccolo lì è lui è lui però con la pistola c'è cazzo dura amico ma dove volevi andare ehi amico non puoi nemmeno correre c'è oh no oh no no porco il clero vieni qui vieni qui va bene ragazzi direi che dopo che mi è crashato il gioco possiamo chiudere qua il video io vi ringrazio moltissimo per la visione vi invito a guardarvi gli altri video e ad iscrivervi al canale lasciate un bocato di like se volete altri video di questo tipo è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao